Ha incontrato la parlamentare Francesca Adonata che ha affiancato nel suo giro in alcuni comuni della provincia retusea. Primi passaggi ufficiali e pubblici per l'ex parlamentare regionale Enzo Vinciullo che già da qualche mese ha sancito il suo passaggio alla Lega di Salvini. A pochi mesi da questo passo importante è lo stesso esponente della Lega nella nostra provincia a fare il punto della situazione. È stato un rapporto che è nato per difendere il territorio della provincia di Siracusa dal momento che nel governo regionale e nel governo nazionale lo faceva. C'è stata la disponibilità da parte del federale dell'onorevole Salvini a firmare questo accordo con noi. Noi l'abbiamo fatto, onorate di aver firmato questo documento. Abbiamo avuto la possibilità di incontrare l'onorevole Donato che a prescindere da come parla bene in italiano è siciliana però e ci teniamo a chiarirlo che è nata in Sicilia, vive in Sicilia, è eletta in Sicilia. Quindi è una deputata della Lega Sicilia proprio per mantenere fede all'impegno che era stato firmato con il presidente Salvini. È venuta anche nella nostra provincia, abbiamo avuto modo di verificare quelle che sono le necessità del porto di Augusta, della città di Augusta, a cominciare dalla bonifica del porto ma a finire anche alla depurazione delle acque perché ancora la città non depura le acque così come avviene nel resto del mondo. Siamo stati a Priola a visitare il consorzio universitario, nel momento che l'onorevole Donato è componente anche della commissione formazione. A Floride, dove l'onorevole Donato nella scorsa elezione europea ha preso un po' di voti e anche un modo per ricordare alle persone che il loro deputato è presente sul territorio ed è venuto appunto a sostenere le ragioni di tutti i comuni della nostra provincia. Nella mia veste di eurodeputato è importante mantenere appunto questo contatto per avere contezza costante delle necessità dei comuni siciliani e delle amministrazioni perché il nostro ruolo deve essere quello di facilitatori, di sostegno ai soggetti sia privati che pubblici che misti perché possono avere eventualmente anche dei finanziamenti o comunque dei provvedimenti che la regione, il governo possono emettere in favore di questi territori.